Laura Pausini, chi sa? Questo è un momento molto importante, diglielo a chi sei io. È un momento importante per noi perché ti premiamo naturalmente, ma per te perché vieni premiata per prima, quindi dovranno essere ancora più calorosi con te, anche perché il premio è come? Rivelazione, il telettore di TV Scioli e Canzoni hanno eletto la Pausini Rivelazione dell'anno. È un telegattino ancora d'argento, grazie. Grazie, grazie mille a tutti.